L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha presentato un ricorso contro la decisione della segretaria di Stato del Maine che lo ha escluso dalle primarie statali del 2024 per il suo ruolo nell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021 sostenendo di non aver incitato alla rivolta. La democratica Shanna Bellows è diventata così il primo segretario di Stato nella storia statunitense a impedire a qualcuno di candidarsi alla presidenza in base alla sezione 3 del 14esimo emendamento che proibisce a coloro che hanno partecipato a un'insurrezione di ricoprire una carica.